buongiorno benvenuti allora richiestissimo tutorial su dungeon sui pixel mi avete chiesto in diversi di spiegare come funziona quali sono le stanze e adesso vi spiego praticamente tutto installare diversi triggers diverse mod e questo per risolvere praticamente tutte le stanze presenti nei vari dungeon allora inizio con la dungeon utilities che è una delle mod principali da avere che avrà la mappa il blade solver il party kicker ripple solver e glowing effect e loot tracker cos'è dungeon per chi non ci ha mai giocato sui pixel quando raggiungete un certo livello ovvero combat se non sbaglio 15 potete iniziare a entrare nel dungeon sostanzialmente è una serie di stanze generate in maniera casuale ma secondo delle schematiche programmate alla cui alla fine c'è praticamente c'è un miniboss e un boss quindi una è una è un sistema di praticamente molto difficile di stanze generate per poi portare a un boss finale che poi vi darà delle casse con il loot io vi spiego in questo questo stream sostanzialmente come 1 completare i dungeon 2 battere i boss e 3 il reward che comprate e dalla chest finale che sia a posto sostanzialmente allora adesso vi apro i pixel e vi faccio vedere praticamente ci sono sette piani lo stesso problema di prima nella preview non so perché questo dovrebbe essere a posto si vedere se è partito si ok abbiamo un ragazzo in chat prima spero non se ne sia andato ok e allora i piani sono 8 iniziamo con questi sette sette iniziamo con questo allora il main dungeon utilities questa è la beta non so più da quando come praticamente dungeon utilities tutte queste mod che sto facendo vedere le trovate praticamente gratis e alcuni sono trigger vi servirà la chat trigger dal sito chat trigger quindi forge per poterlo installare la mappa on and off e in alto destra adesso poi entrerò in un dungeon ve la farò vedere e si può mettere dove volete nello schermo utile comoda blade solver lo rispiego nuovamente e 1 la stanza di blades la trovate in tutti i piani dall'1 al 7 di dungeon praticamente appena entrate c'è una stanza spirale e ci saranno dei blades con varie vite ognuno ha tipo 5.000 di vita l'altra 4.000 eccetera eccetera se c'è una cassa in basso iniziate a uccidere quello che ha la vita più bassa e partite e andate e continuate a ucciderle tutti fino a quello che ha la vita più alta per ultimo questa mod ve li evidenzia tutti quindi vi evidenzia il verde e quello che ha la vita più alta noi adesso non so più uno verde e uno rosso uno vita più alta e altro più bassa al contrario se la cassa è in alto uccidete quello che ha per prima la vita più alta e poi passate a quello che ne ha un po' di meno fino a quello che ha infine quello che ha la vita più bassa la cassa sarà poi spostata la potete aprire e si risolve la trappola party kicker allora ci sono diversi comandi importanti uno è questo lo faccio direttamente vedere p disband questo e poi c'è re party che è un comando che mettete grazie alle mod che faccio vedere che praticamente vi chiude in automatico il party alla fine dello dungeon run lo fate dopo che vi ha dato l'experience del piano e così e manderà via praticamente toglie tutti i membri del party lo ricrea e manda tutti gli inviti quindi utile il reparti importantissimo quindi quella era la prima cosa che volevo vedere il dungeon solver è quello adesso torniamo qua c'è il riddle solver praticamente quando ci sono i tre omini che hanno le tre casse questa è un'altra stanza puzzle è anche comoda perché è utilissima vi dice in chat chi è che ha il il buff o il non so adesso più come la chiamano chi è che ha la soluzione quindi basta cliccare su tutti i tre omini ci sarà un messaggio scritto ah ci sarà scritto tipo marco has the blessing e quindi cliccate su marco e questo è sempre il solver e boom low in effect serve per avere un un area verde intorno ai 5 giocatori di dungeon molto utile funziona mettetelo on e ci sono un paio di cose che sono state disattivate da me quindi copiate se volete le statistiche perché sono diventati illegali da da praticamente dai pixel dalle mod messe e tolte poi c'è un'altra cosa il supi addons questo praticamente è è sempre da chat triggers è un altro trigger si fa così faccio vedere il comando si mette installate prima chat triggers e poi trigger imports supi addons così quindi supi addons voilà allora cosa importante questa la disattivate è la gy di morte per entrare nei party fa schifo disattivatela anche cose esterne a dungeon utili tipo questa poi spam hider è utile per i blessing perché ve li sposta tutti in basso a destra nello schermo questa roba qua infatti quando giocate qui c'è la chat qua a destra se ci sono i blessing trovate in basso a destra nello schermo molto utile perché si parla le cose e ti togli anche la spam della gente che scrive comprare e vendere oggetti volete comprare questo venite in abu non venite la mappa cose così poi ok performance questo è per caricare in automatico il trigger appunto un render limit dungeon eccola qua quindi quando il watcher ha finito di spawnare i mob c'è un alert ci sono alcuni alert attivabili quando il dungeon è all'80% quando si è un minuto dentro il dungeon questo è per dirvi in chat chi è il livid giusto del quinto piano che è giocato tantissimo è utile vi mostra la vita dello spirit bear abbastanza inutile sostanzialmente poi ci sono qua delle cose davvero utili box intorno lo spirit bear e spirit bow è il corretto livid utile molto utile ti avvisa se entri in dungeon senza avermi l'armatura questo è strautile ma non si può più fare se non sbaglio put a box around bat non si può più fare invece si può mettere tipo i bat più grandi quindi fatto c'è un altro setting da qualche parte l'ice puzzle solver eccolo qua è quello per quando c'è la stanza con col ghiaccio vi crea una freccia con una praticamente un percorso da seguire con il ghiaccio among us solver credo che siano le domande del come cavolo si chiama dello shrine dove ci ci sono le tre domande si può cliccare uno dei tre bottoni o è questo o è l'altro uno credo che sia questo quello praticamente ah no ecco qua tutti e due uno è dei tre tizi e l'altro è dei tre bottoni sostanzialmente cosa importante che nessuno sa nella stanza dei tre bottoni quando completate la terza domanda tutti i training weight che avete vengono maxati quindi se non so più se è 50 o 60 di strength ma per chi gioca al floor 7 specialmente prima di entrare nel boss se vi lasciate quella stanza lì per ultima ed entrate tutti in quella stanza delle domande la fate prima di fare il boss sono 50 o 60 strength per ogni giocatore che mette un training weight quindi tenetevi 2 o 3 arrivate nella stanza finale 50 strength in più cambiano tantissimo nel finale teleport pad solver in pratica è per la stanza con le cose rosse ma volendo si può anche evitare basta fare la stanza in diagonale si fa sempre in diagonale e e funziona la sanno tutti quella soluzione in pratica basta entrare nei teleport pad sempre in diagonale e risolvete comunque attiva se non volete entrare o se volete cambiare così e boh come HUD FPS c'è un paio di cose importanti sulla HUD che devo farvele vedere entrando nel dungeon direttamente FPS cps Hyperion Hit vi mostro il pet questa roba qua ma c'è una cosa importante con i segreti invece che sta a destra e dopo ve la faccio vedere sostanzialmente qui c'è un paio di cose utili ma si tipo current pet è utile perché ogni tanto se voi non lo notate ma se morite in dungeon vi cambia in automatico lo spirit pet che è molto comodo però quando ritornate in vita e non vi rimette l'ender dragon o il pet principale che usate voi per dps è un po' scomodo avere il pet sbagliato quindi avere il display lì è utile per me per dire e questo per i griffle in burro che non funziona e ok qui c'è invece ci sono le cose per il water puzzle che funzionano sì e no più o meno questo è per dirvi l'oggetto che ha fetchure nelle mining door of the mines che è la cosa nuova praticamente sì da qualche parte qua c'è il water puzzle comunque anche fammi vedere se ho dimenticato qualcosa queste sono le mod quelle di dungeon specifiche sono o anche la sky tiles questo è un altro modo importante che è utile per dungeons trigger ah facciamo ct load ct modus ah oh dungeon utili senspermation table eh setting man super dance trevor hard village queste sono tutte praticamente le utili di schia e e boom devo farvi vedere questo e ah ah per rispondere alla domanda chi fa un dungeon tutorial perché me l'hanno richiesto me l'hanno richiesto per questo lo sto facendo e diversi c'ho proprio i commenti che me l'hanno richiesto allora nella c'è il piano del tutorial sostanzialmente ecco perché sono 8 comunque tutorial non ve lo spiego neanche si si praticamente si fa tutte le stanze e si arriva alla fine come funziona come classi come come utilità allora ci sono diverse classi a quanto pare quella che fa più danno di tutte è l'archer come come danno generale perché il crit damage diventa altissimo e a quanto pare sono quelli che fanno il crit damage più alto dal punto di vista del dell'output generale e boh tutte qua archer quindi è quella che fa più danno il tank deve praticamente seguire l'healer costantemente sostanzialmente come come funziona allora per farvi vedere ci sono diversi boss il primo è bonzo che lo posso farvi posso farvi vedere direttamente giocando il quinto piano perché il quinto piano contiene bonzo nella stanza dei mini boss sostanzialmente invece che trovarvi aver battuto la blood room e poi il boss il boss quando giocate i piani alti allora partiamo così piano 1 bonzo piano 2 scarf e nella nella stanza mini boss troverete alcuni mob se non il boss della stanza del piano precedente funziona così sostanzialmente bonzo boss singolo spona in e o i dei palloni in tutte le direzioni basta evitarli e e muore a due vite se non sbaglio nella sua stanza principale scarf scarf e chi inizia a fare dungeon deve fare scarf 100 volte sostanzialmente prendere tutti i grimoire unirli fino alla versione leggendaria io consiglio di farlo prima di passare i piani dopo perché perché gli accessori leggendari di dungeon scalano con i buff che otterrete ok quindi scarf sono 4 e scarf è praticamente un necromancer quindi è un mago che evoca spiriti evocherà un altro mago un healer un berserker e un archer evoca questi 4 l'idea generale per chi inizia da capo dungeons è killare per primo l'healer quindi fare fuori l'healer e poi diventa più tranquilla la cosa per chi invece gioca da tanto si arriva al boss si clicca tutti nel portale si spamma il danno tutti in avanti e in teoria muore tutto assieme in un secondo quindi stanza boss 2 terzo piano professor e sostanzialmente è il boss con l'acqua c'erano 4 guardiani e il quinto che è dentro la una barriera bisogna uccidere i 4 guardiani in contemporanea in floor 3 è decisamente facile in master 3 3 è molto difficile perché o si uccidono per sbaglio o comunque sostanzialmente uccidere i 4 guardiani tutti nel mezzo overflux oppure cura generale e tutti a uccidere il professor in linea generale è quella l'idea si fa esattamente come con scarf però si uccide i 4 guardiani contemporaneamente forse è l'unico catch difficile se non ce la si fa diventa lunga ed è molto difficile torn ok torn è quarto piano sostanzialmente molto rapida la mappa perché si tratta ancora di mappe piccole nei primi piani ok quindi torn si arriva alla stanza del boss cosa ci si trova un'arena piena di animali bisogna uccidere 100 entità prima che sponi uno spirit bear ovvero un orso che ha tantissima vita e morto l'orso vi droppa un arco con l'arco bisogna uccidere il ghast che gira in alto lo si può stunnare questo ghast non mi ricordo come è forse uno degli agenti che lo blocca non so più se era l'ice prove one non so più che cos'è l'idea generale è che uccidere il ghast con l'arco spirit sia colui che ha un pet che sia un tiger pet perché il tiger pet ha ferocity quindi ha il doppio dei danni al al ghast se la barra del ghast ha quattro click ovvero dovete prendere l'arco quattro volte per uccidere il ghast se ferocity funziona uno e due ve le fa con un solo colpo di freccia sostanzialmente se avete il tiger pet è uno degli utilizzi più comuni che viene fatto per sostanzialmente per fare fuori il quarto piano più velocemente per chi inizia ed è nuovo e chi non riesce a completare il quarto piano c'è un'arena praticamente sugli spalti dell'arena quindi sul bordo se piazzate un decoy dicoy sostanzialmente sono questi che sono i segreti che troverete ovunque se mettete un decoy tutti i pipistrelli che sono in alto che scendono a meno perché se salite sugli spalti non c'è un decoy tutti i pipistrelli vi vengono addosso e vi uccidono in pratica non si può stare in alto è una maniera per evitare che i giocatori si stiano in alto se mettete un decoy tutti i pipistrelli andranno sul decoy voi potete uccidere l'orso a distanza questo veniva usato per chi vuole fare i piani da nuovo e è utile come cosa anche perché tipo se hai un party che non ha berserker o che non può fare danno attaccato avere un decoy in alto è utile ma non solo per quello anche perché uccidere i bats è conteggiato nelle 100 entity prima di spawnare l'orso sostanzialmente un piano molto noioso sostanzialmente ma ha anche drop molto utili dalle casse e poi c'è il quinto piano c'è il livid livid sostanzialmente è quello che vi mostrerò poi anche per farvi vedere il secret counter e che abbiate abbastanza cripte e cose del genere ma sul punteggio del dungeon dopo prima livid necromancer livid come spawn se non sbaglio nella stanza finale nella stanza miniboss trovate o scarf o bonzo uno dei due lo trovate nella stanza del miniboss lo dovete affronteggiare da soli da soli in due ucciso scarf e bonzo come miniboss nella stanza rossa sostanzialmente li trovate in una specie di arena più grande di quella del quarto piano e ci spawnano se non sbaglio sono sette diversi livid ognuno ha un colore se avete la livid mod che vi ho fatto vedere prima vi dirà qual è quello giusto per battere livid c'è uno spot specifico in cui andare in cima l'arena in alto a sinistra dopo gli spalti molte persone andranno già lì basta seguirli ciao ne sned e basta andare lì e praticamente se si sta nel cerchio dell'healer e avete una cat combo abbastanza alta di solito intorno ai 18-20 l'ho fatto anche con qualche ragazzo della mia guild qualche iscritto e si riesce tranquillamente basta avere un healer o basta avere io lo faccio ovviamente con dei parti più alti perché faccio le completion da 5 minuti però se si è nuovi si bisogna farlo con un healer per forza sostanzialmente o anche l'idea è non classi non doppie no dupes oppure prendete un healer per quelli nuovi per chi invece è già forte non serve l'healer fate tutte le classi damage e via si uccide il livid che è il colore giusto e tutti gli altri muoiono subito all'istante e vi da reward dal quinto piano se fate un punteggio alto in dungeons vi spono una cassa bonus in più dove ci saranno dei reward più alti forse anche dal quarto ma non credo mi pare che l'abbiano aggiunto solo dal quinto in poi onestamente non lo so perché non ho più giocato dal quarto piano quando poi ho aggiunto le casse extra io ho giocato solo più il quinto in poi non credo ci siano anche nel quarto se ci sono dite uno nei commenti lo aggiungiamo come cosa così che si sappia sostanzialmente però il quinto piano è utile perché attualmente si può fare profit ovvero se si ottengono dei drop dalla cassa con S plus la cassa più speciale si vi dà ancora tanti tanti coins sul skyblock quindi è utile anche per rivendere il loot e i drop la cassa S la cassa S plus ovvero le casse migliori sono quelle che di solito vi consentono di guadagnare qualcosa come coins su dungeons sesto piano sesto piano c'è Sadan Sadan è diciamo che è quello che vi bloccherà come difficoltà bloccherà l'80% dei player che giocano a dungeons perché richiede una catacomb level molto più alto rispetto a prima dovete giocare livid un sacco di volte prima di poter fare Sadan perché chiederà praticamente dei set più forti non dico che sia impossibile o avete già dei set forti ma dovrete bisogno proprio di catacomb XP proprio più alta nella stanza miniboss vi troverete livid direttamente quindi nella stanza miniboss la stanza rossa prima del boss ci sarà livid livid ha un sacco di vita quindi abbastanza difficile da uccidere o livid o scarf adesso non mi ricordo più o livid o scarf forse come miniboss comunque come funziona la stanza del sesto piano ci sono due fasi una prima fase si gioca in maniera diversa ci sono 5 o 6 gole in pratica da uccidere e c'è una fase chiamata terracotta face ci sono dei parti che fanno fuori prima i golem e ci sono dei parti che aspettano prima i terracotta per chi vuole fare le cose velocemente quindi è catacombs livello alto conviene prima fare fuori i golem che sono 5 o 6 una cosa così tornare al portale e aspettare la fase terracotta per chi invece fa il piano come nuovo che vuole giusto passarlo il piano sostanzialmente bisogna prima fare fuori rimanere in vita la terracotta poi piano piano si vanno fuori i golem e i giganti eccetera eccetera quindi tolti le prime due cose che sono interscambiabili ovvero i golem e la terracotta terracotta richiede un healer nel sesto piano di solito io lo riesco a completare anche senza ma io sono cotta con un livello veramente alto di solito un healer serve anche perché le terracotta fanno tanto tanto danno lo trovo un boss molto lento non mi piace onestamente però dà anche tantissima catacomba xp quindi è utile se dovete fare catacomba xp perché la terracotta danno tanto tanto xp proprio combat xp quindi utile finita la fase terracotta che non serve ucciderli ma se li uccidete tutti terracotta la fase finisce prima quindi più rapida se non li uccidete non serve ucciderli c'è una barra in alto del boss che scende fino a che non è finita finito l'interesse del boss interesse di sadan la terracotta scompaiono tutti quindi potrete affrontare tre giganti che saranno praticamente tre o quattro forse tre solo che saranno i protettori del boss sostanzialmente e avranno degli attacchi diversi sono abbastanza facili questi tre giganti basta solo non andargli addosso sostanzialmente colpire la distanza se siete berserker non morite andandoci in continuazione addosso basta evitare anche il laser dagli occhi dai giganti ecco queste sono le tre quattro cose principali come mage basta colpire la distanza e non non causano problemi archer sparano i bones ottenuti dal piano quattro quindi via e e sostanzialmente uccisi tre giganti spawnerà il gigante finale di solito inizialmente si può avere problemi soprattutto con l'ultimo gigante per chi non ha tanta dungeon e ring spi quindi non ha cata a livello alto perché l'ultimo gigante fa tanti danni quindi l'ideale è dividersi non farsi uccidere tutti assieme di solita si può battere tranquillamente quando si è cata xp un po' più alto lo si fa fuori piuttosto facilmente è notato anche perché c'è un c'è una cosa che bisogna stare attenti praticamente e aspettare di usare tutte le abilità quando appunto emerge il gigante tra l'altro il gigante emerge dal basso con una corda apre un buco nel vetro e se venite lì dentro morite istantanamente quindi non finite lì dentro grazie perché si perde di punteggio della run quindi non finite dentro il vetro finché non è completamente fuori tanto si sposterà ed è invincibile il gigante finale quando si posiziona che diventa colpibile allora potete farlo fuori questo è Sadan Necron Necron ha una boss phase a più fasi innanzitutto preannuncio che io non ho ancora battuto Necron perché non sono ancora arrivato a batterlo ci manca veramente poco io ho fatto le prime due delle quattro fasi sono morto nella terza che è quella dei dei i terminali praticamente non non ho neanche provato più di tanto perché gioco nei party random però prima o poi lo batterò sicuramente siamo quasi quindi sostanzialmente e sostanzialmente come funziona prima fase ci sarà avete il mini boss con i giganti del sesto piano quindi senza mini boss ci saranno i giganti questo piano e poi potrete entrare nel boss boss prima fase ci troverete una stanza piena di wither miner ovvero piena di scheletri neri la cosa importante è che ci sia qualcuno che riesca a tenere in vita e farsi seguire dal wither necron senza morire questo è veramente importante perché se non c'è nessuno che gli sopravvive finisce istantaneamente però allora come funziona ci sono due cristalli in cima alla stanza di necron sono due cristalli e non si può usare l'aspect of the end ovvero non si può trasportare con la spada e quindi si prende e si fa una specie di parkour che se lo fate a mano si va sulla destra rispetto a dove nascete si sale praticamente su un ruolo trasportatore si fa il giro dietro e si fa un paio di spirali di parkour e poi si arriva in cima e si fanno e si prendono i due cristalli che si posizionano in basso dove ci sono delle pedane d'oro oppure si usa una machine gun per salire in verticale saltando questa fase di parkour se appena battuto la prima parte necron questa prima fase si poi scenderà nel secondo livello della boss fight nel secondo livello della boss fight ci sarà una stanza pienissima di wither miner gigante un'arena più gigante rispetto a tutte le altre stanze del dungeon questa fase forse è la più difficile per quanto riguarda vita perché già io la trovo molto difficile che sono cata livello alto l'ho già battuta però è difficile perché bisogna anche portare necron il boss sotto i pilastri che schiacciano il pavimento sostanzialmente e come funziona prima di tutto in questa fase bisogna uccidere gli arcieri che ti sparano da tutte le direzioni perché non si riesce a controllare il boss se si è sparato da tutte le direzioni si disparano frecce in tutte le direzioni sostanzialmente uccisi gli arcieri diventa più facile gestire il boss di solito mentre qualcuno fa fuori gli shadow assassin che sono i quattro angoli della mappa non so se è solo un angolo due angoli o quattro perché l'ho già battuta la fase ma è difficile anche da capire battuti gli shadow assassin diventa più facile gestire il boss e controllarlo per farlo andare sotto il pilastro sotto il pilastro il pilastro scende batte il pavimento lo rompe doccando la terza fase del boss fight che sarebbe praticamente quella con i terminali adesso di lì in poi i i i solver per i terminali ci sono nelle mod che vi ho fatto vedere in teoria i solver per i terminali ci sono cosa bisogna fare e col proprio party adesso dirò in generale ci sono due aree la zona sotto e la zona sopra bisogna mettersi d'accordo su chi fa la zona sotto e chi fa la zona sopra di solito scrivono up o down o comunque sono queste due cose e poi si va avanti si fa tutti i terminali si arriva in fondo arrivati in fondo necron cioè l'ultima fase bisogna colpirlo un po' poi lui va in mezzo alla mappa gli inizia a spaccare tutto bisogna farlo fuori sostanzialmente andando nel mezzo e togliendo di più vita possibile prima che sia nella fase in range che poi vi segue e uccide tutti quindi questa è praticamente la più difficile magari ci vorrebbe poi un aggiornamento nel dettaglio su questo sostanzialmente ma invece che di questo adesso parlo velocemente di punteggio nelle run e come fare i boss i boss per come ottenere il loot utile quindi se trovo un party nel floor 5 vi faccio vedere sostanzialmente facciamo un po' più alto dai c'è qualcuno di livello alto boss rush va bene questo questo per farvi vedere come funziona come punteggio come segreti benvenuto Marco comunque adesso ovviamente crash devo rifarlo warp me aspetta che glielo scrivo slash dungeon è grazie alle mod come punte rifacciamo un po' bassi di livello facciamo più lì voglio qualcuno sopra al 20 questo va bene 19 25 non va bene non meglio voglio voglio farvi vedere adesso sui segreti come funziona c'è il secret counter allora qui c'è una cosa importantissima with a rest in shop dovete maxarlo tutto si parte questo è il massimo 10 questo è il massimo 5 adesso non so quanta io ne abbia sono 7 52 mi manca questo questo e questo e ho finito comunque cosa si può savage praticamente quasi tutto r ready pronti r vuol dire ready pronti chi arma usi io sono in superior aspect of the dragon e ho anche una pigman's world ma non è un set per tutti è un set per chi gioca da tanto perché è un set che costa il triplo rispetto a tutti gli altri allora grazie alla mod a partire vedete qui a destra c'è scritto death puzzle missing puzzle fail puzzle secret found crypts gimmick killed skill score e più o meno il punteggio stimato c'è anche la mod delle dungeon room e che non ho messo che è abbastanza inutile e boh tutto qua startano perché sono in 4 vabbè non importa statterà da solo gente che se ne va siamo in 3 non so perché meglio non giocarla con la partita believe questa tanto startano dico di io comunque lì a destra vi fa vedere le stanze completate adesso vi faccio vedere a parte il punteggio come si fa il blood rush e come ci si divide sostanzialmente per tutti i piani tutti per completarli velocemente è importante fare una cosa una persona deve uccidere tutti i mob per la blood rush blood rush praticamente prima aprite la stanza mini boss meglio è come vedete io qua ho tutti gli altri giocatori con l'highlight verde quindi so dove sono inizio la run in alto a destra c'è la mappa allora questa stanza qua è piena di di mob così mini boss per liberare la prima praticamente per arrivare alla stanza boss bisogna completamente pulire questa stanza dai mob con le stelle in questo caso perché c'è un runic lì da un milione e quattro di vita ok perché siamo un po' sfigati facciamo così riesco a buttarlo giù come prima dicono che l'aspect of the end è l'aspect of the dragon ok importante era fare quello quindi una volta uccisi tutti i mob spawnerà una key una una wither king quella lì in basso in questo caso e viderà anche chi l'ha presa come si fa a sapere dove andare se vedete la mappa sostanzialmente ci sarà nella mappa un bordino nero ci sono vedete che il corridoio è collegato a tre stanze no oggi faccio solo questo onestamente si ho quasi dieci mesi non ho raggiunto un milione di coins ti dico guarda non è è una questione di si spendi sempre tutto vedete questi teschi neri indicano anche la stanza da seguire per arrivare alla stanza dopo in questo caso il tizio l'hanno già sbloccato qua l'hanno già aperto qua e sono già andati qua come si dove si andrà dopo basta seguire la la stanza io uso la pigman per aumentare la difesa e fare danno magico e l'aspect of the dragon per fare danno col tasto sinistro sostanzialmente ma non è una cosa per tutti se voi non giocate tanto dungeon non avete set adeguato vi consiglio usare una liquid dagger come vedete io so esattamente dove andare basta seguire i teschi neri e basta seguire la mappa che vi indica più o meno dov'è la stanza successiva prima aprite la stanza blood meglio è cosa importante ottimo a far vedere qua vedete lì che c'è un enderman in basso quello è un fels per sbloccarlo ci andate vicino io ho l'ender dragon pet mi fa anche meno danni il fels i fels nelle stanze con tutti i mob con le stelle sono mob che hanno la stella a loro volta anche se sono sotto terra cui certe volte non si vedono ma in realtà dovete ucciderli per forza per sbloccare la stanza dopo e adesso pulisco sta stanza vi faccio vedere la stanza mini boss perché è abbastanza ecco qua vedete uccise tutti i boss vi da il blessing che sarebbe l'intenziamento appare qua in basso e la key per la prossima stanza questa stanza è piuttosto rapida per fortuna adesso spiego esattamente cosa fare così avete un'idea ben chiara io questa fase di qua di solito la faccio in in pochissimo tempo tipo a volte anche 30 secondi arrivare fino a qua e aprire la porta e dopo se la si può prendere con calma cioè non si va subito dentro si va fuori si fa i segreti prima qua non devono farla tutti anche questa cosa basta una due persone gli altri devono sbloccare la trappola devono sbloccare il puzzle e che io faccio questa di solito perché mi serve mage xp per salire di livello di classe quindi è utile e quindi mano a mano che i boss della stanza rossa spawnano cos'è la limestone e come aumentarla cos'è la limestone la limestone onestamente non ho idea di cos'è la limestone è un blocco della 1-16 forse non c'entra assolutamente niente sostanzialmente quella leva che ho usato era questa cassa poi qui c'è un altro segreto qua i segreti basta seguire qualche video che li mostra onestamente non è non è che ci sia un'indicazione migliore su cosa fare diciamo che il mage è utile perché rompe tutte le crypt tra l'altro per il punteggio ideale bisogna rompere 5 crypt ok adesso dirò le cose sul punteggio che sono molto utili voi guardate a destra crypt 4 quindi bisogna rompere ancora una crypt prima di poter andare nel boss per di solito si dovrebbe qui c'era un bat credo di averlo ucciso ok comunque credo a meno che non sia sparito e poi si va sotto ci sono altri tre segreti la sotto credo di non averlo ucciso il bat purtroppo è sparito da qualche parte è morto da solo ogni tanto i segreti si glitchano comunque senza miniboss ha diverse variabili oro non oro quel che l'è come si fa a capire quando il punteggio del dungeon è abbastanza è adatto per prendere S plus allora vedete la mappa in alto a destra tutte le stanze hanno il pallino verde allora bisogna avere tutte le stanze col pallino almeno bianco ovvero avere tutte le stanze esplorate e uccisi i mob con le stelle prima cosa poi per avere S plus l'ideale è che quasi tutte le stanze abbiano un sacco di segreti completati se non si ha delle morti non dico che devono essere per forza tutti ma devono essere tanti tanti segreti completati se se ci sono due morti due morti quindi il massimo il massimo che si può sgarrare è con due morti tutti segreti tranne due quindi due morti tutti segreti tranne due quindi lo vedete lì all'altro a destra due deaths tutti segreti tranne due e si può ancora prendere S plus se nessuno muore nel boss dicono di andare poi dicono no fammi vedere come la mappa è a posto si possiamo andare per puzzle room c'è una stanza si siamo a posto 7 crypts va bene questo è lo spot per il quinto piano per il momento se lo cambiano basta andare tipo qua sotto e poi basta non morire sostanzialmente può anche usare il radiant adesso 10 secondi ragazzi e spiego il profit e il reward profit ok tutti morti questa S plus vi faccio vedere il profit come funziona basta cliccare vedete 304 è posto cliccare su tutte le casse e leggere in alto lì in alto vi indica il profit se c'è qualcosa che vale la pena di prendere o meno in questo caso non c'è niente che vale la pena di prendere né qua anche se c'è legion né qua anche se c'è altre cose combo profit era tipo recombulator o cose così quindi ti avrete in alto a destra il punteggio in alto centrale il profit e e basta questo è tutto come vedete saranno completate in 7 minuti spiegando anche le varie cose si può completare molto più rapidamente anche in 4 4 minuti S plus 4 eventi e niente questo è dungeon spero di aver spiegato più o meno tutto non ho fatto vedere i vari puzzle ma l'ideale è che uno faccia i puzzle l'altro uno faccia blood rush come ho fatto io io ho fatto blood rush in questo caso per fare sì che la run fosse veloce più è veloce il blood rush più è probabile che si finisca prima il giro sul piano perché perché la stanza del mini boss ha un timer non si può bisogna comunque aspettare x tempo prima di poter che spawnino tutti i mini boss sostanzialmente facciamo dungeon per uscire di nuovo si può essere dal portale ma il sesto piano il portale non ce l'ha quindi si fa dungeon si va qui e si fa fuori tutto tranne la roba leggendaria tutto tutto salvage salvage tutto questo salvage infinite quiver lo vendete ok questo o avete il dungeon sac o li potete tenere o vendere a me dei bond non frega niente questi li tengo perché mi servono tutti i frammenti dei draghi li tenete li vendete poi assieme e boh finita così io uso l'inventario così perché questi qua quando andate per i segreti ve li da tutti e questi qua tornano praticamente sempre utili i training weight non valgono niente li uso li uso o li troppo direttamente e boh tutto qua questo volimento qua bene spero che questo tutorial vi sia stato utile in quanto alle armi vi consiglio flower of truth del sesto piano molto utile ma è che sia intorno agli 8 milioni 10 milioni non so se non ho idea di dove sia io al momento sto giocando livid e continuo a fare livid perché mi piace il livid e perché è rapido e boh perché non puoi aprire le casse alcune volte devi fare il primo allora per aprire le casse all'inizio del dungeon devi avere una class sp ovvero devi essere il livello della classe deve essere almeno livello 1 livello 2 una cosa del genere la class sp la vedi qua vedi io sono livello 21 healer livello 26 mage livello 22 berserker livello 19 archer livello 23 tank ovvero devi fare il piano due o tre volte dopodiché ti dà la possibilità di aprire la cassa perché se non hai livello 1 o livello 2 non mi ricordo più non puoi neanche aprirle quindi se fai due o tre volte il primo piano all'entrata poi potrai aprire le casse nel primo piano e si inizialmente prendete ultimate wise lo mettete nell'aspect of the end che è molto utile per muoversi attorno nella mappa e si può anche rivendere ultimate wise e wisdom anche si può rivendere a poco in più ma se proprio volete aprire la cassa inizialmente si si acciona molto più profit soprattutto col floor 2 i grimoire valgono sostanzialmente e si sulle classi non è che ci sia nient'altro da dire comunque vi ho detto più o meno tutto quello che c'è di importante va bene chiudo qua cosa importante si volevo farvi volevo sottolineare cosa si può usare boss collection se andate su livid c'è la livid dagger che è molto potente la usano in tantissimi diciamo che va bene un po' per tutti i piani sostanzialmente io ovviamente è una spada che io ho ottenuto e ho venduto perché ho ottenuto la shallow fury che è qua che ho ancora maxato non so se usare questa ottenere l'aspel of the dragon che è praticamente quella che si ottiene dalla chest s plus del quinto piano che vale un po' di più questa qui praticamente se avete presente le tre spade finali ovvero iperion valkyrie scilla questa qua ha 10 di damage in meno 10 di damage in meno quindi invece 10 e non al ferocity però insomma ho ottenuto ho detto faccio che pigliare era 7 milioni con la riduzione di uno dei dei meglio se vendo questa vedrò poi più avanti cosa voglio fare per il momento mi trovo benissimo con l'aspel of the dragon che ha 301 di danno questa ha 300 quindi questa ha anche l'abilità raddoppiata anche l'abilità questa abilità qua non ho ben capito come funziona onestamente ci vorrà un po' di test e boh io i primi piani li ho fatti tutti col set unstable senza che fosse dungeon e ring tra l'altro ma io ho una marea di accessori quindi non posso neanche dirvi fate così fate così perché io li ho quasi tutti quindi dire a qualcuno copiate quello che faccio io perché non si può quello che posso consigliare è prendete Scarborough Dream War perché questo accessorio è un accessorio dungeon accessory quindi scala con il livello di dungeon eerie quindi questo prendeteli tutti uniteli fate più volte il secondo piano perché darà class experience è una delle cose che è molto utile poi andando avanti e l'altra cosa se volete comprarlo dall'auction house quando la trovate che non ha delle cifre assurde è il catacomb expert ring questo qua che si ottiene dal settimo piano io l'ho già comprato e ho usato il recombobulator perché è molto utile terza cosa sono i le treasure artifacts sono tre accessori per chi fa dungeon che sono molto molto utili posso consigliare queste tre cose qua poi riguardo al set c'è shadow assassin che va benissimo oppure se avete cose migliori cioè non è che vado bene per tutti ecco io posso usare full superior ma non qualcun altro anche perché io tutto il primo primi due mesi di dungeon qualunque mini boss uccidevo non usavo la dragon essence per poi metterla su superior e quindi sì c'è da dire che è quello però non è detto che poi più avanti mi faccio un set shadow assassin anch'io tanto arriverò a 7.50 di livid magari se c'ho voglia mi farò un set shadow assassin anch'io chi lo sa o magari vado direttamente a battere l'ultimo piano non ne ho idea onestamente vediamo qua va spero vi sia piaciuta la mini live con le spiegazioni e questo è dungeon in generale la master mode avrà dei avrà le stesse cose con i mob con più vita o per esempio il quarto piano invece di uccidere il ghast quattro volte dovete ucciderlo 8 o 16 sostanzialmente così ma sì come quale pet usare tiger va benissimo blue whale silverfish per tankare il danno anche enderman andava straordinariamente bene io non gli ho messo neanche un pet item l'ho usato un po' di volte andava straordinariamente bene il phoenix lo spirit se sei healer è una bomba cura in continuazione e poi lo spirit compratelo dal quarto piano perché comunque se morite per sbaglio riduce la penalità nel punteggio quindi è utile un po' per tutti e forse costa di meno all'auction house adesso anche non lo so phoenix molto buono per i tank molto buono per il tank come classe perché il fire damage funziona anche anche funziona funziona bene il fire damage sostanzialmente e tank con crit damage spacca non ho ancora provato con archer ma deve essere anche questo da paura con archer e boh tutto qua vi ho detto tutto altri pet buoni c'è il wither skeleton pet che io non ho buono io ho usato sempre ender dragon perché buffa l'aspetto of the dragon però wither pet è molto buono boom addio addio so poi troppo troppo un po' un po' Grazie.